Partiamo ora dalla cronaca. Il 16 settembre scorso a Teheran, Masha Amini è stata arrestata e tre giorni dopo è morta. La sua colpa era di non aver indossato il velo secondo i dettami della polizia morale iraniana. Da lì al grido di donna vita libertà è ripartita la protesta contro il regime che ad oggi nel paese ha già fatto oltre 500 morti, tra cui 71 bambini e 19 mila arresti. Ma proprio questa mattina leggiamo sulle agenzie di stampa ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Continuano ad aumentare le segnalazioni di ragazze con misteriose nausee e difficoltà respiratorie. I genitori protestano, le autorità evocano un complotto del nemico e gli attivisti parlano di una campagna mirata contro le donne dopo le proteste per la morte di Masha Amini. Quindi sempre più casi di sospetto avvelenamento tra le studentesse iraniane. Ma vogliamo entrare nel merito di quella che è la situazione, soprattutto alla vigilia di un momento che per noi molto spesso viene banalizzato come una sorta di festa alternativa. Parlo dell'8 marzo e quindi della giornata di riflessione sul mondo delle donne. Lo facciamo attraverso dati importanti per capire effettivamente qual è la situazione in Iran e non solo. Grazie al contributo di Amnesty International, di cui ritroviamo in collegamento, il portavoce Riccardo Nuri. Buongiorno e bentrovato. Grazie, buongiorno. Dicevamo appunto di queste ultime notizie, ma più in generale. Ecco, qual è la situazione in Iran? E' disperata. Lo confermano proprio le ultime notizie che ha dato lei. Questo attacco alle bambine nelle scuole, ormai sono oltre mille quelle avvelenate con agenti chimici. Con ogni probabilità si tratta di gruppi di estremisti che puniscono le bambine nelle scuole in cui ci sono state proteste. E' incredibile che le autorità iraniane, anziché accusare i nemici dello Stato, non agiscano per individuare i responsabili. Questo è un attacco senza precedenti nei confronti del diritto di istruzione. Non è l'unica cosa, ma certamente è una delle più gravi. Per il resto, lei ha ricordato, oltre 500 manifestanti uccisi dalla metà di settembre a oggi, insieme alla repressione in piazza, in strada, c'è la repressione di tipo giudiziario, con già quattro impiccagioni che hanno avuto luogo. Un centinaio di persone, tra quelle che sono accusate di reati per i quali è prevista la pena di morte, persone che sono sotto processo per reati che possono comportare la pena di morte e persone già condannate a morte, siamo oltre un centinaio. E su questo domina un quadro di repressione che va avanti da 44 anni, cioè dalla nascita della Repubblica Islamica Iraniana, con una discriminazione che è sistematica di leggi, di prassi, nei confronti delle donne che spiega perché si sia accesa una scintilla molto importante all'interno del paese dopo l'uccisione del 16 settembre di Masamini. Ecco, abbiamo parlato di questo dato incontrovertibile. Sono nel momento le violenze, la repressione, è giusto chiamarla con il suo vero nome, ma Amnesty International in questo contesto svolge un costante lavoro di monitoraggio delle gravissime violazioni dei diritti umani. Ecco, riuscite a lavorare? Come lavorate? Sì, lavoriamo, anche se non è possibile essere presenti nel paese, ma abbiamo relazioni con un movimento di difensori dei diritti umani coraggiosissimo, quello più importante in tutta la zona del Medio Oriente sicuramente, che sfida repressione, intimidazioni, arresti, condanne, torture, per informarci. Quindi noi sappiamo quello che accade, lo diffondiamo, lo denunciamo, mobilitiamo le diplomazie internazionali e le Nazioni Unite perché prendono provvedimenti per fermare questa repressione inaudita. Uno di questi è stata la nomina di una commissione di esperti delle Nazioni Unite che dovrebbero entrare in Iran, entrare nelle aule giudiziarie dove si tengono questi processi farsa, visitare le carceri, raccogliere prove, preparare insomma il terreno per un momento che per Amnesty International è necessario, quanto è inevitabile, cioè una qualche forma di giustizia internazionale che porti in un'aula di un tribunale i responsabili della attuale e della precedente ondata di repressione. Ecco, vediamo nel frattempo anche il sito di Amnesty International, dove è possibile avere tutte le informazioni relative alle diverse campagne. Poi parleremo anche di quella che può influire anche nell'ambito della stessa realtà iraniana. Ma tornando al caso emblematico di Masamini, ecco, parlava di processi farsa. Molte volte, anzi, più delle volte le accuse sono davvero, come dire, risibili per certi aspetti, ma dobbiamo comprendere la realtà di cui stiamo parlando. Secondo il codice penale islamico iraniano, infatti, qualsiasi atto ritenuto offensivo per la pubblica decenza è punito con la reclusione da 10 giorni a due mesi, oppure con 74 frustrate. Le donne che si mostrano in pubblico senza il velo, ecco, devono essere punite con una reclusione da 10 giorni a due mesi o col pagamento di una multa in contanti. Nel caso di Masamini, ecco, si è arrivati alla morte. Sono casi emblematici questi, ma davvero il limite per incorrere in un reato sono molto, molto labili in Iran? Sì, purtroppo. Vedi, in Iran c'è un tempo asincrono, cioè c'è un movimento per i diritti umani che è pienamente all'interno delle lotte globali del XXI secolo per la non discriminazione, per i diritti, per la libertà, per la giustizia. E c'è un gruppo al potere che si comporta come ci si comportava in Europa molti secoli fa, cioè un contesto nel quale la religione non governa soltanto il rapporto tra il fedele e Dio, ma governa il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Tant'è che le norme che vengono, discendono direttamente dal Corano, prevedono ad esempio il reato di inimicizia o guerra contro Dio, ed è un reato omnibus che è stato usato per colpire gli organizzatori o anche i semplici partecipanti alle manifestazioni. È ricordato le norme riguardanti le donne. L'unico diritto che è consentito alle donne è quello di essere modeste. Tutto ciò che non è modestia è come se fosse contrario alle norme religiose. Quindi abbiamo questo problema di norme che derivano direttamente dal Corano che vengono usate dentro il codice penale per criminalizzare chiunque si opponga al governo. Un altro importante aspetto per dare un'idea generale di quella che è la situazione riguarda il contributo. Stiamo parlando di ciò che riesce a fare e può fare Amnesty International, ma la comunità internazionale cosa può fare oltre agli appelli che comunque vengono lanciati e spesso disattesi? Può fare molto. Intanto c'è un problema specifico che riguarda diverse persone con doppio passaporto iraniano e spesso europeo o statunitense che sono nelle carceri dell'Iran, in alcuni casi anche condannati a morte. C'è la storia di Amade Reza Jalali che ha studiato e fatto ricerca anche nell'Università del Piemonte Orientale a Novara per diversi anni e che è condannato a morte per una risibile accusa di spionaggio in favore di Israele. Quindi ci sono poi cittadini tedeschi, britannici, statunitensi. Quindi intanto già le diplomazie di questi paesi dovrebbero fare un po' di più perché si tratta comunque di loro connazionali. Poi ci sono delle misure che possono essere intraprese. Le ambasciate devono decidere se mandare osservatori ai processi, se rimanere aperte perché c'è possibilità di accogliere, dare dei visti in ingresso per persone che hanno bisogno di fuggire dall'Iran. Se invece decidono di andarsene, questo è un altro tema, è una mossa di inimicizia diplomatica che ci sta perché la situazione dei diritti umani è grave. Il Consiglio di sicurezza è inerme perché Russia e Cina stanno dalla parte dell'Iran, allora però ci sono tutta una serie di meccanismi riguardanti i diritti umani che possono funzionare. Gli Stati europei sono molti che applicano la giurisdizione universale, che è un sistema per cui si possono processare nei tribunali nazionali persone non della nazionalità dello Stato che li processa. Possono aprire indagini e poi procedimenti nei confronti di funzionali iraniani responsabili della repressione. Questo sarebbe un ottimo segnale contro l'impunità. E' importante comunque restare nell'ambito di quella che è la possibilità di poter intervenire in qualche modo su queste situazioni delicate, sia a livello istituzionale con i mezzi diplomatici e tutto ciò di cui ci parlava qualche istante fa, ma anche noi nel nostro piccolo, attraverso l'informazione, ecco la sensibilizzazione su queste tematiche, e anche ancora di più nelle nostre possibilità poter intervenire attraverso una delle tante modalità che anche attraverso il sito internet di Amnesty, come vi dicevo, potete vedere. Tra queste c'è la possibilità dei lasciti, lasciti che possono essere dati a favore di Amnesty e quindi per poter intervenire nel concreto, per dare un aiuto a queste persone. Tutti i riferimenti sono all'interno del sito, anche riguardanti i lasciti solidali. Io intanto ringrazio Riccardo Nuri ancora una volta per averci aggiornato su questa situazione, ma sono tantissime le realtà di cui dovremmo parlare, non solo in Iran, ma nel mondo. Quando i diritti vengono calpessati parliamo di tantissime, purtroppo, realtà del nostro pianeta. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie mille, buon lavoro a lei.